PNRR è il rischio per i cantieri, non c'è nessun pericolo, botta in risposta tra il primo cittadino dell'Aquila per Luigi Biondi e quello di Teramo Gianguido D'Alberto, dopo la proposta di revisione del PNRR presentata in cabina di regia. Insomma si va avanti e le risorse saranno usate a pieno entro il 2026. Sono le parole di Biondi in risposta all'allarme di D'Alberto in qualità di Presidente Anci. Il ministro fitto per Biondi, anziché riscaricare le responsabilità sui comuni, si è assunto una responsabilità, prendendo atto dell'impossibilità di alcuni comuni di onorare le scadenze. Il fitto si è assunto una grande responsabilità di dire agli enti locali, ai comuni in particolare, guardate che alle condizioni date non siamo in grado di rispettare le scadenze del PNRR perché lì non si valuta il singolo progetto ma l'intera misura e già abbiamo avuto un finale thriller con la questione degli asili nido. E quindi ha detto poiché potremmo non rispettare queste scadenze troviamo altre fonti di finanziamento in maniera tale da non avere sgradite sorprese alla fine. Fitto si sta incontrando con i rappresentanti dell'Associazione dei Comuni e dell'Unione delle Province Italiane. E conoscendo anche la credibilità e la serietà del Ministro Fitto io credo che nessun progetto di nessun comune conoscerà stop, ritardi o addirittura dei finanziamenti.